E' altro punto che mi piace di l'anti è parte di dump. Pagkiko, per questo nostro lavoro, a troppo, quando ci viene, 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 ci viene a vedere quale c'è la parte che ha fatto, che è la planta che è partita, che è la planta che ha fatto a fluff, ci viene a vedere quale c'è la parte che ha fatto, e ora ci viene a funzionare, per raiare, si chiara pone il sushi di mata per processare il flusso. Mi te dice, questo è un boffta, dentro del pollo qui, un boffta, dentro del tutto, che ti soffi vivendo del vecindario di Parquitambos. Pagkiko, per questo non vi faccio, con 8 anni a largo, voi saboteare il progetto che non hanno, cammino con la mira, con il boffta che non hanno, ma non hanno bisogno di avere la miglianza, l'irresponsabilità, ma non hanno un problema più grande che non hanno mai avuto. Cammino con il governo anterior, non hanno stoppato la candela. Cammino con la inversione, per cammino con il sushi di casa, per processare, per avere un flusso, per ciò che non hanno un barra, la quantità di sushi con il tempo è zero, non è cresciente, ma non è cresciente, ma non è stato in un modo, ma non hanno bisogno di avere il progetto, ma non hanno bisogno di avere le cose, ma non hanno bisogno di avere il vecindario. Dopo che, dopo 8 anni, l'argomento, perché abbiamo bisogno di avere la macchina, traja, abba lage machine sin azeta, abba lage trajadonan e nang sin siquiera un basura pa por passa pa ha si lugar e limpi anto awe boke bin prometo eleksion, bin bisa con nos tabai wata qua pieza falta minta bise cose ton falta di respeto e menester si venga menester de mesa e menester Mike Eman, mister wardo poni personalmente responsable pa e daño co awardo ha si akinan, pa so senyora sta placa di poeblo awardo rinca den e planta un planta kuboso sabotea kuboso tira krenshaf den je kuboso tira materialan kuno porabai den je un assunto kuboso trata di parlamento di Aruba camindo co menester si venga a binia falta respeto na poeblo di Aruba, na parlamento di Aruba na parlamentare e na turgen de mujer, dor di bin con saco, con cotex den je anto pa bimbisa mi tabisa otro mentiroso mas sinunca tau ta ting un deal pa kiko web ta hinka 17 minyong florin pa traha un pipa ku ting kukonekta web ku ecogas bisami pa kiko anto web ku abai den parte den financiero den road fabia dia transaccionan aki nan kamina ku na declara e sei den sala di parlamento ku e 17 minyong aki ponen nan bai den peligro kamina ku bota wako na 2014 kong nanta risa e preis di awa risa preis di corriente kong nanta batigende ku riot comando dilanti parlamento anto awe bo ke bin bisami pa sobra ku noting nyung deal mi kermen senyores have a heart ocho anja largo anto awe bo ke bin bisami kong boso tabai busca solusion a corto plazo y a largo plazo pa wak kiko tabai pasa anto tabisa tam e di viaja cuya el problema ta pa so gende no ta paga